Le ventenne sono capricciose e a letto non sanno fare grandi cose. Sì, è vero, sono le più sode, ma sopportarle il fegato si rode. Le trentenne sono scasse a palle, han paura di restar fitelle. E se son belle se la tirano, ma a tirarla poi la rompono. E se son le donne matine, ma io non faccio il vero durriere. Ed immaduro voglio solo la frutta, tipo una pesca o un albicocca. Prima dei diciotto e dopo i sessant'anni, meglio evitare per limitare i danni. Con le prime finisci al fresco, con le altre è una sfida al buon gusto. Ed è per questo che mi sono stufato. E di me mi sono innamorato, io mi sono innamorato di me. Perché io sono il meglio che c'è. Con me vado quasi sempre d'accordo. Ed è difficile che mi dia porto. Giù, 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 giù.